Nella pittoresca a fuori gruppo casa, propone la residenza dei parchi 3 e 4. Il complesso si affaccia sui giardini della residenza 1 e 2, le nostre precedenti realizzazioni, che assicurano il massimo della tranquillità e il più alto comfort abitativo. La vicinanza della metropolitana, permette di raggiungere ogni angolo di Milano in pochissimi minuti. La residenza dei parchi 3 e 4, come le realizzazioni precedenti, si caratterizza per l'eccellente qualità delle finiture, che rendono l'intervento eterno. Il rivestimento in mattoni a vista, i ceppi di pietra in facciata, oltre alle coperure in rame, garantiscono un importante valore aggiunto. La qualità assoluta delle finiture, permette di avere una sicura rivalutazione dell'intervento e di irrisori costi di manutenzione. Il complesso si attesta nella classe energetica B, con bassissime spese di riscaldamento e di condizionamento, nonché con minime spese condominali. Sono disponibili signori gli appartamenti di tutte le metrature, sia in pronta consegna, sia con consegna estate 2014. Tra le soluzioni troviamo anche esclusivi attici manzardati su due livelli con ampi terrazzi. Vieni a scoprire Residenza dei Parchi 3 e 4, visita il sito www.residenzadeiparchi.com oppure contatta Gruppo Casa allo 02 34 94 481.